ciao e bentornati a crochet romance oggi ho fatto la spesa di cotoni e li ho messi in questa cesta da picnic infatti il filato si chiama picnic il filato è della marca mistrico filati e un 100 per cento cotone e 50 grammi fanno 115 metri da lavorare con uncinetti ferri 3 3 mezzo e può essere lavato in lavatrice anche a 40 gradi il campione riportato in etichetta fanno 27 magli per 31 ferri fanno 10 per 10 centimetri lavorati con i ferri del 3 con i ferri del 3 abbiamo questa metratura del filato picnic abbiamo tantissime colorazioni in negozio www.filati romanze.com e vi invito a provare questo filato con i vostri progetti sia di abbigliamento ma anche di amigurumi allora io ho fatto un piccolo campioncino all'uncinetto per vedere come rende questo è il risultato lavorato a maglie basse e qua ho fatto anche un altro campione lavorato in circolare e se vedete è un cotone povero perché non è mercerizzato è un semplice cotone grezzo praticamente però la lavorazione viene veramente molto bella e regolare i punti esaltano bene con questo filato e qua ho usato un ferro un po un uncinetto un po più grande quindi vedete mi è venuto un pochino un pochino più leggero come dire qua ho usato l'uncinetto del 4 e mezzo per fare il test il risultato è molto elastico e morbido ho voluto proprio provare a usare un uncinetto bello grande per vedere come potrebbe rendere per un capo estivo questo filato per gli amigurumi sicuramente userei un uncinetto più piccolo 3 e mezza perché per gli amigurumi vogliamo un effetto bello compatto allora di colori di questo filato ne abbiamo circa 30 al momento ce n'è in negozio in magazzino disponibile 19 però gli altri colori arriveranno e avrete veramente l'imbarazzo della scelta vi consiglio di usare questo filato per i vostri progetti di decorazione casa abbinando vari colori insieme potete usarlo tranquillamente per fare anche delle copertine da bebè potete usarlo per l'abbigliamento da neonati non ci sono problemi essendo un 100% cotone le possibilità di utilizzo sono praticamente infinite questi sono alcuni dei colori disponibili io consiglio di usare questo filato in progetti multicolor abbinando i vari colori è un filato estivo un cotone classico che non può mai mancare in una craft room di un creativo perché si presta veramente a tantissimi utilizzi voi amate il cotone oppure preferite la lana? fatemi sapere nei commenti iscrivetevi al canale tutti i link utili li trovate sotto a questo video nell'info box e se avete usato questo filato e volete mostrarmi il lavoro finito potete farlo nel mio gruppo facebook crochet romance pattern group io vi aspetto vi mando un bacio e a presto